E anche la scia dei soldi perché si vede che lui è un money grabber. Sembra quasi uno youtuber. DANG! Doobie doobie doosbee doosbee. Ma quanto figa è questa skin? Io veramente ragazzi non ho parole. E tanti di voi preferiranno sicuramente questa. Però dai parliamone. È un fighissimo coso in uno smoking che se io avessi porterai di sicuro. Quindi ho assemblato la composizione definitiva. Ossia Jack Gordon. La borsa dei soldi perché si vede che lui è un money grabber. La cassaforte perché si vede che lui è un money grabber. E anche la scia dei soldi perché si vede che lui è un money grabber. Sembra quasi uno youtuber. DANG! E a proposito di youtuber money grabber scioponi. Prima fa' tutti e sono ottimi pura fibra italiana. E vi chiedo gentilmente di supportarmi su Fortnite. Andando nel vostro shop. Cliccando su supporta un creatore. E scrivendo Octi PFI. A voi non costa nulla. Ma è un gran piacere che mi fate. Grazie mille. Ora vi lascio al video. Senza ulteriori indugge andiamo a fare qualche partita. L'obiettivo di oggi è divertirsi. Quindi questo è una scusa per non giocare da pro player. Quindi non fare partite con un sacco di kill. Ma giocare un po' per divertirsi. Tutto questo accompagnato dalla mia ciabatta con la paperella con la borsa. Io amo le paperelle con la borsa. No, no, non volevo buttarmi. Vabbè, non importa. I veri uomini da fare si buttano a pinnacoli pendenti. Ma noi non siamo veri uomini da fare. Siamo dei truffatori. Quindi ci butteremo a bacino bucato. Che se devo dire la verità mi fa proprio schifo come nome. Cioè era meglio loot lake in inglese. Ma vabbè. Questa è una bella arma. Ti devo dire la verità. Questa è proprio una bella arma. Ma questa è stata una pessima mira. Pessima mira. Speriamo che non arrivi nessuno ma non penso. È fortissima la revolver comunque. E queste cose danno un sacco di legno. Accidenti a loro. Eh. Eh. Dubi dubi dusbi dusbi. Signor presidente abbiamo un problema. Buonissimo. Abbiamo già trovato un sacco di armi strafighi. Questo non significa assolutamente che abbiamo vinto. Cerchiamo di analizzare la situazione. Di capire eventuali nemici e dove si trovano. Et et et. Lo vogliamo prendere o no questo tipo? Uh. Si pusha? Si pusha bros. Ma che cosa fai? Ma cosa fa quello? Ma cosa fa? Come si suol dire dalle mie parti. Se Maometto non va dalla montagna. La montagna va da Maometto. Il problema è trovarlo. Chissà dove è andato a finire lui e la sua moto. Io la amo la falce. C'è amo il suono della falce. Si spera bene. Si spera bene che non ci arrivi una cecchinata dal mondo. Però ho pochi materiali. Forse sarebbe il caso di scendere a fare un po' di materiali. Che dite? Oppure aspettiamo che qualche... Avete visto? Avete sentito? Dai. Dai. No. Non farmelo scappare. Maledetto te. Maledetto te che è scappato. È scappato. Oh ma noi lo rincorriamo. Senza problemi. Vieni qua. Vieni qua furbetto. Ma guardalo che scappa. Questo qua scappa. Pensava lui. Accidenti. Quattro kill comunque. La partita sta procedendo verso il meglio. Speriamo che questo qua abbia cose. No. Non ha avuto molto. Qua spero di trovare scudi e robe. No. Assolutamente no. Quando tu speri di trovare qualcosa su Fornet sai già che non la troverai mai neanche a pregarla, a pagarla oro. Ma quasi quasi. Et et et. Ho visto, ho visto, ho visto, ho visto gente. Scappiamo. Eccoli là. Buono. Andiamo a dargli la caccia. Signori miei. Andiamo a dargli la caccia. Ma chi è sto sfigato che mi lancia le munite? Ma cosa mi lanciate le cose? Basta lanciarmi le cose. Sono cattivi questi. Addio, 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 amici, addio, addio, noi ci dobbiamo lasciare. Buono ragazzi, buono. Ma, signori miei, è il momento di andare in safe. Però... Diamo gli la caccia. Ten 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 ten. Jack Gordon non perdona. Jack Gordon non fa... Non pagare più i debiti. Eppure... Eppure... Buono. Come vi ho detto prima, Jack Gordon non perdona. Jack Gordon non perdona, vi ho detto. Jack Gordon non perdona mai. Dai, curiamoci. Spero che voi lo capiate che Jack Gordon... Che Jack Gordon non perdona. Eh, questa mo... Ma perché nessuno ha materiali? Ma che storie sono quelle di oggi? Cioè, otto kill, nessuno... Ma che cavolo? Ma che cavolo? Ma che cavolo? Non ho... Non ho bende, non ho niente. Accidenti. Ma come... Oh là, 10 kill, easy. Siamo rimasti in 5, ragazzi. Devo curarmi. Cioè, non posso fare altrimenti. Capitemi. Ora vediamo di curarci e di andare in safe perché manca poco. Ok, ricarichiamo le nostre armi. Jack Gordon non perdona. Jack Gordon non perdona. La safe è distantissima. Accidenti a Jack Gordon che non perdona. Accidenti a lui. Che ora sta safe è distante una vita. Beh no, in realtà no. Cioè, basta sapere che Jack Gordon non perdona. Allora. Cerchiamo di analizzare un po' la situation. Buono. Buono. Oh, l'ognomo. Quello là, quello là ha 2 di vita. Ha per forza 2 di vita. Gli ho fatto 24, 24 e 150. E siccome è a casa mia... Cavolo, la safe a casa mia è lontana. Ma perché tutti qua adesso? Perché tutti qua? Ah, zombie miei. Sarei più sicuro a sapere che lì non c'è niente. Invece lì c'è qualcosa. Allora, metete. Allora. Jack Gordon non perdona con le sue 12 kill. Jack Gordon non perdona. Non perdona mai, Jack Gordon. Non perdona mai. Assolutamente foto. Assolutamente foto. Assolutamente foto.